salve a tutti ragazzi qui è z willix che vi parla e oggi vi darò una buona notizia ma anche una cattiva soprattutto per chi ha un content creator di gta 5 ed è rimasto ancora su xbox one oppure playstation questa notizia riguarda il rockstar editor una specie di diciamo strumento magico che non solo vi permette di editare le vostre clip favorite in gioco che avete registrato tramite la crocetta in giù mentre state giocando ma anche dimostrare osservare dettagli che tipicamente non si possono mostrare semplicemente giocando per dirvi con il rockstar editor ci ho fatto o meglio ci faccio anche tuttora tantissime cose ad esempio le miniature per youtube video in cui vi mostro dettagli di posti che tecnicamente non sono accessibili giocando normalmente o ancora utilizzavo questo strumento per fare montaggi oppure clip di gameplay quando andavo a recensire i veicoli bene la cattiva notizia è questa ovvero che il rockstar editor presente su gta 5 per ps4 xbox one verrà rimosso per sempre dal gioco a partire dal 20 febbraio 2024 e sì tutti i vostri progetti e le clip salvate al suo interno verranno definitivamente eliminate immagino che uscirà un aggiornamento scaricabile per queste due console che rimuoverà definitivamente rockstar editor dal gioco chiaramente rockstar editor presente su playstation 5 xbox series e anche pc rimarranno intatti questa cosa accadrà solo sulle console all gen per chi gioca su pc state tranquilli il rockstar editor non verrà rimosso su questa versione nonostante pc abbia ancora la stessa identica versione di gta 5 per ps4 xbox one chiaramente tutte le vostre clip come anche progetti verranno completamente cancellati quindi se avete progetti a metà clip di ricordi mi raccomando di concludere o perlomeno di backup arvi sul vostro account se ci tenete prima che sia troppo tardi vi lascerò il sito del supporto rockstar che spiega come fare tutto questo qua sotto nella descrizione avete tempo fino a martedì 20 febbraio perché fanno tutto questo ebbene rockstar editor verrà rimosso da all gen per permettere alla rockstar di poter creare altri dlc anche sul gen dato che secondo loro stanno raggiungendo il limite di ciò che è possibile fare a livello tecnico sulle console della scorsa generazione il rockstar editor è uno strumento potente e rimuoverlo farà sì che non ci siano limitazioni all'hardware per far girare correttamente i prossimi aggiornamenti di gta online su ps4 xbox one per quanto sia un brutto sacrificio per chi ancora fa video su queste due console io credo sia una nota positiva perché permetterà a chi è rimasto ancora su queste due console di poter giocare i futuri dlc di gta online e non solo diciamo che grazie a questa tra virgolette cattiva notizia ne abbiamo una buona ovvero che anche quest'anno gta online verrà ufficialmente supportato da nuovi aggiornamenti smettendo in gran parte il famoso rumor che girava a novembre dove si diceva che rockstar avrebbe smesso di fare dlc quest'anno quando uscirà il nuovo dlc questo non lo sappiamo però dato che tra i files di gioco sono presenti dei vestiti dedicati alla giornata del 4 luglio la festa della indipendenza americana e che c'è scritto che questi vestiti fanno parte del dlc the chop shop io penso che il prossimo dlc non uscirà prima della metà di luglio a meno per quanto riguarda quello estivo chiaro che poi ancora dobbiamo ricevere le missioni di vincent l'assatto alla clacking bell che si presume uscirà con il nuovo mese di gta plus di marzo probabilmente anche per questo che toglieranno il rockstar editor in ogni caso ho fatto un video sopra riguardo ciò se siete interessati vi lascerò il video nella descrizione secondo il nostro modello di fiducia arrivati a questo punto rockstar dovrebbe inserire la stessa versione di gta 5 che abbiamo su ps5 xbox series anche su pc la quella con i veicoli di au gli animali eccetera 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 io però non sono granché d'accordo visto che pc ormai è completamente infestato da modders in sessione e rockstar non credo farebbe granché comodo se uno si spostasse ad esempio da ps5 a pc per farvi capire e poi si farebbe moddare per pochi spiccioli su questa versione d'altro canto c'è anche da dire che se ps4 e xbox one stanno raggiungendo il capolinea per gli aggiornamenti in base a quanto effettivamente vogliono supportare gta online su queste due console rockstar penso che un giorno sarà quasi costretta a portare questa versione di gta 5 anche su pc se eventualmente decideranno di smettere di pubblicare dlc su ps4 xbox one perché suppongo che creare un dlc per tutte le piattaforme porta un gran mal di testa e tante perdite di tempo purtroppo sì siamo cresciuti talmente tanto che adesso il mitico rockstar editor per playstation 4 xbox one ci darà l'addio il 20 febbraio mi raccomando content creators di ogen finite i vostri progetti backupate le vostre clip prima che sia troppo tardi fatemi sapere le vostre tre commenti da z will x è tutto noi ci sentiamo al prossimo video ciao 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 ciao